Cari amici di Geopop, vi seguo da tanto tempo e amiro tantissimo il lavoro che fate, stavolta però siete incappati in un errore. Con lo cui mi riferisco è questo articolo che avete pubblicato qualche tempo fa, in cui definite il direttore orchestra maestro d'orchestra. Ma ragazzi, il termine maestro d'orchestra non esiste in natura, cioè non troverete mai scritto da qualche parte che Riccardo Muti è un maestro d'orchestra, o se dovesse trovarlo sappiate che è un errore. Esiste il termine maestro che viene dato come titolo onorifico a un direttore o mediamente anche a qualunque musicista professionista e poi c'è il termine direttore d'orchestra che definisce la funzione, un po' come dare genericamente del dottore a qualunque laureato e poi dare dell'ingegnere a uno che sia laureato in ingegneria e che svolga il compito di ingegnere. Per cui senza che questo Muti di una virgola stima che ho per voi, la prossima volta se avete bisogno di una consulenza musicale, ragazzi chiamatemi, ve la faccio gratis.